E' da questa penombra e dalle voci del passato che inizia il riscato della comunità afrodiscendente di Torino. Il Black History Month, che celebra la storia del popolo africano migrante, arriva per la prima volta in città. Mohamed Ba, autore e mediatore culturale in Italia da oltre vent'anni, porta in scena una sintesi tra passato e presente, tra due sponde del Mediterraneo che non possono sottrarsi al dialogo. Partendo dall'Africa abbiamo avuto la fortuna di imbeverarsi delle tradizioni culturali e letterarie italiane, dalle quali abbiamo formato un po' un modo di pensare diverso ed è quello che si traduce oggi in uno spettacolo teatrale dove raccontiamo la drammaticità della gioventù africana. Ma le quattro settimane di eventi in programma fino al 26 febbraio hanno soprattutto il volto e la luce negli occhi di Joy, ragazza italiana afrodiscendente. Ha lavorato insieme a molte altre torinesi, ognuna col proprio talento e sostenuta da famiglie che sono il simbolo di un'inclusività discreta ma potente. L'interesse nel far conoscere la mia storia è nata penso quando ero adolescente, ossia in un periodo dove di storia africana e di rappresentanza ce n'era davvero molto meno rispetto ad oggi. Oggi bene o male posso rivedermi guardando delle serie sulle piattaforme di streaming. Quando ero piccola non c'era rappresentanza, non c'era nessuno che mi somigliasse in tv, non c'era nessuno che mi somigliasse da nessun'altra parte. E lì, e crescendo, ho compreso che in realtà la rappresentanza ha un valore, la rappresentanza serve. Non solo sfilate ma musica, incontri letterari e dibattiti scandiranno il ritmo di questi giorni. Si parlerà di mente e corpo e della pelle sulla quale per secoli sono state scritte storie di sofferenza. Allora fu il viaggio degli antenati, ora eredità per chi intraprende il proprio. Quello di ragazzi e ragazze cresciuti fra noi, come noi, e che con noi raccontano la comunità afrodiscendente in Italia. Noi oggi possiamo parlare con le nostre voci, possiamo farci capire, possiamo insegnare e imparare. Sono strade da percorrere, sono strade da percorrere insieme.